Un'altra cosa, di un po', perché sei uscito di notte? Spero non c'entri di nuovo la Zerdical. Sono uscito perché c'era un problema con Mete e quindi... Secondo me eri gelosa, vero? Non ero gelosa per niente, ero arrabbiata. Pensavi che ci fosse di mezzo una donna? Quando non mi hai dato spiegazioni ho iniziato a preoccuparmi. Inoltre non ti hai rimesso la fede. Mamma mia, come sono stata male. A dire la verità l'ho fatto di proposito. Perché ti volevo far arrabbiare. No! Sei uno sciocco! Te lo sei meritato! Per prima cosa tu... Un momento, parliamone dopo. Ho avuto sia il lavoro che la tua password. Non mi farà arrabbiare più niente. Ti ho battuto su tutti i fronti. Congratulazioni. Come hai fatto a liberarti dei tuoi amici? Ah, non è stato.